Ritorna Velia Romana. Dopo il successo dello scorso anno la legge prima italica sarà nuovamente nell'area archeologica di Elea Velia. Sostituiti anche il materiale che si è rotto nel delibito, uno scudo che si è spezzato, un grado che si è spezzato e quando ritorna è fresco. E' sempre così. Questo si chiama mutato. Si tratta di un gruppo che fa archeologia sperimentale, ovvero una particolare tipologia di studio dell'archeologia attraverso la fedele ricostruzione di un accampamento militare romano e collaboratori di cucina dell'antica Roma, della costruzione delle armi e tanto altro ancora. Volto! Alto! Uno! Toro!